Questionari agli sportelli, interviste per rilevare la qualità del servizio idrico e la soddisfazione dell'utente. Efficienza e trasparenza nel nuovo protocollo d'intesa, siglato da consumatori e consiglio di Bacino Veronese, il garante del servizio idrico integrato a Verona. Questo protocollo si pone come obiettivo di migliorare quello che è il rapporto tra utente e fornitore del servizio e quindi garantire che le performance minime previste dalla carta dei servizi, che sono migliori rispetto a quelle imposte dall'autorità, vengono un po' dopo rispettate e garantite in maniera tale da dare anche il servizio di trasparenza nei confronti delle utenze. Il protocollo si aggiunge alla collaborazione già attiva tra consumatori e consiglio di Bacino, che racchiude Acque Veronese e Gardesana Servizi, un protocollo che prevede attività di monitoraggio e confronto dati che avrà durata triennale. Universalità, qualità ed economicità del servizio, a questo noi puntiamo e questo protocollo è un primo passo per raggiungere questo obiettivo molto importante, soprattutto che si estrinseca nella tutela preventiva del cittadino e del consumatore. Vogliamo eliminare qualsiasi possibilità di intoppo, di difficoltà, di criticità che si possa creare nella relazione tra la società del servizio idrico e il consumatore. E da questo punto di vista anche il consiglio di Bacino ci ha aiutato molto nell'elaborare una proposta che poi è stata accolta naturalmente dalle società per arrivare a questo risultato, che è uno dei primi risultati che noi possiamo portare a casa qui nel nostro Veneto, forse anche in Italia.